C'è da dire che io ho giocato a calcio e ho fatto tanti sport. C'è stata questa necessità di cominciare a raccontare degli sport che fanno gli altri. Ho preso la mia prima macchina fotografica e ho cercato di documentare lo sport. Naturalmente, avendolo praticato, mi rimane più facile raccontare quello che ho vissuto in prima persona. Questo spazio espositivo è una cosa molto importante per la città di Pari perché non c'è più il punto di riferimento, quindi questo spazio è importante per tanti fotografi che si affacciano e si sono occupati nel mondo della fotografia. Grazie